ho scelto di rinunciare ad andare alla cerimonia al Quirinale e quindi di ricevere questa onorificenza qui in hotel perché qui abbiamo costruito una bolla di sicurezza che ci permetterà di poter partecipare alla partita delle senazioni contro l'irlanda sabato e andando alla cerimonia mi sarei precluso la possibilità di giocarmi un posto per entrare in formazione quindi ho scelto di ricevere la medaglia e il diploma qui in hotel e l'ho potuta condividere con i miei compagni e lo staff di Itarregri che sono la mia seconda famiglia quindi ne è valsa davvero la pena avrò il piacere di incontrare il presidente quando sarà passata questa emergenza quando tutti saremo tornati a una vita normale speriamo questo accada il prima possibile abbiamo invitato il presidente mattarella al terzo tempo quando si potrà tornare al terzo tempo vorrà dire che siamo usciti da questa da questa emergenza a questo periodo quindi non vediamo l'ora di vedere il presidente con noi avrei voluto partecipare alla cerimonia al Quirinale anche perché avrei ritirato la medaglia indossando la divisa della croce gialla anche perché l'ho detto dall'inizio questa onorificenza non riguarda me io sono stato preso simbolicamente ma riguarda un sacco di persone che volontariamente hanno indossato una divisa simile a quella e hanno cercato di aiutare sia in questo periodo ma anche da tanti anni che con piccoli gesti cercano di aiutare la propria comunità quindi il vero il vero riconoscimento va a tutte quelle persone che che hanno indossato o che indosseranno in futuro quella divisa quando ho iniziato io ovviamente c'era una situazione di emergenza e ho cercato sempre di stimolare soprattutto i giovani e sono sicuro che qualche a qualche giovane sia arrivato il messaggio abbiamo bisogno di un sacco di collaborazione da parte di tutti adesso non siamo lo vediamo nei telegiornali non stiamo passando un bel periodo l'emergenza non è finita dobbiamo farci forza l'uno con l'altro sperando di non tornare alla situazione di prima assolutamente ma se nel remoto caso in cui succederà io sarò lì e con me ci saranno tantissime altre persone che sicuramente avranno voglia di aiutare